Vox Ischitana presenta l'Avancione Schiaponte è visitabile fino al 6 ottobre una bella mostra di icone di Maria Clelia Loppi Abbiamo qui la signora Loppi che è anche la curatrice della mostra Allora spieghiamo un po' l'importanza di queste icone e perché avete voluto esporle qui ad Ischia Sì, abbiamo pensato di venire per far conoscere a Ischia, ai turisti, questa forma d'arte perché non molti la conoscono e questo è un inizio, speriamo di tornare poi altre volte Queste icone sono antiche? Queste icone sono antiche, risalgono al XVIII secolo e al XIX secolo Sono integre, non hanno subito restauri se non la pulizia Qual è la bellezza dell'icona russa? In che cosa consiste? Diciamo se così possiamo dire brevemente Mi esprimo con una frase di Floreschi L'icona è una finestra aperta nel cielo Allora, vediamone qualcuna, ce le faccio vedere stesso lei, per esempio una più antica o la più pregiata Sì, molto antica, è la Madonna delle tre mani Arte popolare, ma molto rappresentativa, integra e molto bella Io la trovo eccezionale Poi qualcun altro? Il Crator con la sua rizza perché venivano a volte coperte per abbellirle, per renderle ancora più belle Anche se poi è stata tolta perché è così bello il dipinto settecentesco Il Mandillion, il volto non dipinto da mano umana È bellissimo, un'espressione stupenda Abbiamo la tipologia della Madonna di Kazan Rappresentata sia con foglia oro Sia in forma piuttosto semplice Ma non di meno interessante e espressiva Allora, ricordiamo a San Giorgio Bello, stupendo Che distrugge Sì, il drago nel senso del peccato Ricordiamo quali sono gli orari in cui è possibile visitare la mostra Gli orari sono tutti i giorni fino al 6 di ottobre Dal mattino 10 e mezzo, 12 e mezzo E pomeriggio 16 e 20